Nell'episodio della teofania di Dio sul monte Tabor abbiamo la manifestazione di Dio in un modo particolare. Pietro, Giacomo e Giovanni si trovano a fare un'esperienza di Dio che loro non avevano programmato, ma in cui rimangono coinvolti. Ed è un'esperienza talmente bella che decidono di rimanere lì per sempre. Se fosse loro possibile starebbero lì sul monte e costruirebbero quelle tende di cui parlano, ma Gesù dice loro di scendere a valle e di non parlare ad altri di questa esperienza se non dopo che lui sarebbe risorto dai morti. Allora c'è un'esperienza che si può fare, che io e te possiamo fare, semplicemente per il fatto che Gesù Cristo è risorto dai morti e ci dà la possibilità di fare questa esperienza. Gesù Cristo, morto e risorto, invia il suo Spirito, invia lo Spirito Santo. E come sul Tabor, in questa trasfigurazione, c'è una nube luminosa che avvolge Pietro, Giacomo e Giovanni e permette loro di entrare in comunione con Dio, così oggi c'è una nube luminosa che con la sua ombra ci avvolge ed è lo Spirito Santo che opera nella Chiesa. Lo Spirito Santo oggi nella Chiesa ci rende la possibilità di incontrarci con Gesù Cristo risorto, di fare esperienza di Lui proprio nell'ascolto delle sue parole. Questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo, dice Dio. A noi l'invito ce lo fa oggi. Sappi che nella comunità cristiana, nelle celebrazioni liturgiche, abbiamo io e te la possibilità di incontrarci con questa parola e attraverso l'ascolto di questa parola, il nutrirci del corpo e del sangue di Gesù Cristo, incontrare Gesù Cristo, né più né meno come l'hanno incontrato Pietro, Giacomo e Giovanni. Per loro è un'esperienza, una tantum. Per noi è un'esperienza che ci accompagna tutta la vita nel momento in cui partecipiamo alla vita della Chiesa. La Chiesa, luogo dove si manifesta questa nube luminosa che è lo Spirito Santo, che oggi tuttora agisce.